Il manga di My Hero Academia sta per mostrarci ciò per cui abbiamo aspettato per ben 7 anni. La situazione è disperata, Toya sta per esplodere coinvolgendo tutto Gunga, mentre All4One vola sempre più veloce verso Shigeraki e Deku. E anche Shoto e Ida a camino sentono il peso della situazione mentre Tsukauchi va nel panico. Ma è in questo momento che arriva lui. È in questo momento che un qualcuno si pone davanti all'avanzata di All4One. Siamo davanti a quello che sarà il rematch tra All4One e All Might. Ebbene sì, tutte le nostre teorie sono state confermate, dal rematch di All4One contro All Might fino al contenuto della valigetta che All Might si porta dietro dalla saga di Dark Deku. Come sempre però andiamo con calma e analizziamo per bene gli eventi che accadono. Il capitolo 386 di My Hero Academia inizia infatti nella sala di controllo, dove i poliziotti che stanno analizzando le varie battaglie sui vari scenari si rendono conto che qualcosa non va. I sensori termici stanno rilevando un'enorme concentrazione di calore all'interno proprio del petto, del cuore di Toya Todoroki. E se tale calore dovesse continuare a crescere, come sta facendo, tra dieci minuti esatti il suo corpo esploderà e brucerà, si porterà via tutto e tutti nel raggio di 5 chilometri. E se questa situazione non fosse già abbastanza pericolosa per gli eroi presenti sul campo di battaglia di Gunga, ovvero Ox, Tokoyami, i ragazzi dello Shiketsu, Ochaku, Tsuyu ed Endvor, oltre che per Toga, unica altra villain rimasta lì in montagna, ecco che nell'esplosione verrebbe coinvolto anche il sottosuolo, nel quale al momento stanno viaggiando blocchi di civili. In tutto ciò il blocco nel quale si trova proprio la famiglia Todoroki inizia però a crollare e mentre Gunhead annuncia a tutti quanti di uscire dalle uscite di emergenza, ecco che ci rendiamo conto di un fattore gravissimo in questa situazione. Se i blocchi infatti crollano sotto al monte Gunga e i civili rimangono a piedi, non ci sarà modo per loro di scappare. Di conseguenza se Dabi dovesse esplodere, morirebbero tutti. Dabi si porterebbe via persino la famiglia di Endvor. E ragazzi, tutto ciò avverrà sicuramente sempre se non avremo modo di assistere a una scena alla Il Cavaliere Oscuro, in cui Endvor magari si immola volando via e portando con sé Toya, facendolo esplodere in area lontano dai civili e dagli eroi feriti. In questo caso ovviamente avremo la morte sia di Toya sia di Endvor, il quale, secondo me, io ve lo dico, deve morire per forza. Endvor non può continuare a vivere con il peso di aver ucciso suo figlio e ovviamente non può nemmeno farlo uccidere a Shoto, che altrimenti vivrebbe la sua esistenza anche lui con questo peso enorme sulle spalle. Di conseguenza questa potrebbe essere una soluzione. Su tutto ciò però ci ritorneremo davvero a breve, cioè tra qualche secondo, in quanto Shoto e Ida stanno per dirigersi proprio a Gunga, ma di questo ne parleremo a breve. Dalla sala di controllo risulta infatti che la velocità di All4One sta aumentando sempre di più, ed è abbastanza vicino a Shigeraki per usare il quirk melmoso di teletrasporto, ma è in questo momento che una comunicazione inizia ad arrivare sia nella sala di controllo sia negli auricolari di Shoto e Ida. Si tratta di All Might. A camino Ida cerca di assicurarsi delle condizioni di salute di Shoto dopo aver usato l'attacco al fosforo, ma Shoto risponde dicendo che non può tentennare ora che All4One si sta dirigendo verso Deku. I due devono andare a dare supporto al loro amico, però Shoto in questo momento è in panico, non sa cosa fare, non sa se andare a Gunga, non sa quali sentimenti lo stanno attraversando, tant'è che inizia a piangere, inizia a piangere insieme a Ida, finché i due non sentono la voce di All Might né i loro auricolari. All Might ovviamente è felice di sapere che entrambi stanno bene, ma ora non è il momento di lasciarsi andare, né al panico né alle lacrime. Il loro obiettivo è andare a Gunga. Dopo aver spiegato la situazione, All Might afferma infatti che nessuno può fermare l'esplosione di Toia se non la combinazione dei loro Quirk. Solo Shoto e Ida possono cambiare adesso la situazione sul campo di battaglia di Gunga. Shoto qui vorrebbe andare a fermare All4One con tutto se stesso, non vuole che All4One raggiunga Deku, ma All Might dice di non preoccuparsi e di andare a Gunga in quanto già solo la sua presenza lì rassenerebbe, rassicurerebbe, non lo so, italiano, tutti quanti. Mentre in tutto ciò le gambe di Ida devono fare ciò che hanno sempre fatto, ovvero guidare i bambini smarriti. E con queste parole ovviamente All Might si sta riferendo proprio a Shoto. È una metafora, sta dicendo a Ida, porta Shoto a Gunga. E a questo punto dunque Ida mette la sua maschera sul volto di Shoto caricandolo in spalle e inizia a volare in aria verso i palazzi sotto l'occhio vigile di Stain. Stain che tra l'altro ha con sé un aliante. Ora il come Stain abbia avuto questo aliante probabilmente è per motivi di trama, ma ce lo facciamo andare bene perché immaginatevi un'entrata in scena di Stain alla Green Goblin sull'aliante che vola che raccatta Shoto e Ida e li porta lui stesso a Gunga. Magari aumentando la velocità proprio grazie ai propulsori di Ida. Sarebbe una figata assurda. E poi Stain alla mood di Green Goblin è perfetto. Ed è qui che arriviamo a All Might. Hawks, mentre tiene Tokoyami fornendogli supporto, inizia a far rapporto sulla situazione ringiovanendo All 4 One non solo sta diventando sempre più forte e veloce ma anche più crudele. E queste parole teniamole in mente per ciò che vedremo nella tavola finale. Sentendo le parole di Hawks All Might scende dalla sua auto dicendo che questa è sempre stata la sua battaglia e chiedendosi se tutto questo crescente odio in Apo non sia dovuto all'influenza di Shigeraki. E qui vediamo All 4 One volare sempre più vicino. Tsuka Uchi ordina dalla sala di comando a All Might di scappare, di tornare, di andare via in quanto è senza Quirk e non può nulla contro Apo. Ma è qui che All Might sorride ricordando quando Deku gli chiese se poteva diventare anche lui un eroe sebbene fosse senza Quirk. Sulla traiettoria di All 4 One si pone così proprio lui il nostro All Might. La valigetta e l'auto dell'ex hero iniziano così a scomporsi andando a creare quella che secondo me sarà una vera e propria armatura che permetterà a All Might di andare a sfruttare la singolarità dei Quirk per dar vita ad un'ultima incredibile battaglia. E prima di vedere qual è la conclusione di questo capitolo prima di vedere le parole che All Might pone a All 4 One vorrei fare una parentesi ovvero ma ci rendiamo conto di quello che sta creando Oricoshi. Il più grande sogno di Oricoshi per My Hero Academia è sempre stato quello di andare a creare un vero e proprio macro universo supereroistico e dannazione no oggi me lo permettete porca di quella bacca ci sta riuscendo perché magari voi in questo capitolo vedete sì la citazione a Green Goblin la citazione ad Iron Man perché secondo me la valigetta che All Might sta andando a creare che sta creando l'armatura è una citazione ad Iron Man al secondo film di Iron Man probabilmente voi magari ci vedete tutte queste citazioni ma immaginate un ragazzo un uomo che può riuscire a creare un proprio universo andando ad inserire tutti quelli che sono gli elementi che più gli piacciono Oricoshi sta nel finale del suo manga andando a realizzare il suo sogno sta prendendo in mano la sua storia e sta dicendo dannazione se io voglio inserire un'alliante alla Green Goblin non inserisco e io sono felice anzi felicissimo di poter leggere My Hero Academia in questo momento e sono ancora più felice di poterlo fare insieme a voi ragazzi wow infine dunque guardando il volto pregno di odio ma anche di soddisfazione di All4One che finalmente potrà uccidere colui che gli ha sempre messo i bastoni tra le ruote il capitolo si conclude con All Might che sorride affermando io sono qui Watashi Gakita e ora potete piangere perché piango anch'io ma questa scena è ovviamente il preludio alla morte di All Might non prendiamoci in giro All4One in questo momento è troppo potente All Might non potrà mai mai fermarlo però una cosa potrebbe farla ed è questa la mia teoria per voi oggi All Might infatti sicuramente riuscirà a scalfire Afo grazie all'armatura armatura che tra parentesi secondo me potrebbe aver progettato Dave ma vedremo ora il come All Might riuscirà a scalfire Afo ovviamente lo sapremo una volta che avremo visto la sua forma la forma dell'armatura chissà se si tratta no proprio di un robottone alla Hulkbuster oppure di un'armatura alla Mark 3 per essere chiari fatto sta comunque per me che assisteremo ad una battaglia incredibile assisteremo finalmente al loro rematch rematch nel quale All Might verrà ucciso da All for One ma ragazzi è sicuro All for One però il quale per me potrebbe tornare ancora più giovane raggiungendo Deku e Shigaraki tornato adolescente come loro abbiamo aspettato sette anni e dal 2016 che si è svolta la prima battaglia tra All Might e All for One che stavamo aspettando il loro nuovo incontro e finalmente ci siamo e per concludere in bellezza questo video io vi voglio ricordare una frase una frase un'affermazione che All Might disse proprio agli inizi della saga di Dark Deku ovvero il giorno nel quale accadrà qualcosa al ragazzo sarà il giorno che io morirò e infine se volete saperne di più su quella che è stata la storia della creazione di Mayro Academia io vi rimando a questo video alla prossima